Io ho poco da lamentarmi, in fondo il mio male l'ho voluto io, mentre c'è gente che soffre senza colpa, senza nessunissima colpa, anzi avendo fatto del bene. E allora a queste persone che voglio dedicare una ballata e non a chi è cattivo nel cuore e nell'anima. Grazie a tutti. Io ho cercato sempre di essere disponibile con cui mi chiedevo qualcosa, però ho sbagliato il mio approccio con le ragazze e col lavoro. Adesso parlo con la solitudine e la disoccupazione, che vuol dire è non sapere cosa fare tutto il giorno. Non è neanche un amico, ce l'avevo un amico, mi è morto e vorrei farmi un altro con cui avevo lo stesso rapporto di amicizia che avevo col mio amico. Con lui ci portavano a dire di tutto, tutti i nostri segreti. Vorrei quel tipo di amico è lì, ma è difficile. Ciao.